cara mira sono passate due settimane dal giorno in cui sei andata via oggi pomeriggio ho preparato il caffè macchiato con il latte di avena e il suo sapore mi ha riportato in un lampo ai primi giorni di luglio gli ultimi che abbiamo trascorso insieme facevo merenda con questa bevanda fredda e un biscotto alla cannella lavorava all'uncinetto una maglia azzurra e tu dormivi ricordi ti svegliavi e zuppicando venivi da me a chiedere la fettina di mela anche tu volevi la merenda cara dolce amica anima pura il mio misero cuore è con te ovunque tu sia la nostra amicizia è indissolubile e durerà oltre lo spazio e oltre il tempo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti